scattata e scattata l'ora solare ben trovati buongiorno in qualsiasi momento voi ci stiate seguendo da ovunque ci stiate seguendo farà un ingresso perfetto perché lei è abituata a fare l'ingresso perfetto in uno studio perché è una showgirl proprio showgirl esattamente con quel significato un'attrice ed è una persona bella oltre a essere proprio bella di suo tant'è che è anche una modella faccio prima dire nome e cognome milena miconi con un bacio sempre da lontano è certo finirà anche questa situazione questo momento io sono molto contenta milena abbia finalmente perché non ci ha mai detto di no ma essendo impegnatissima oggi finalmente la possiamo avere qui con noi per ripercorrere con lei la sua storia che è una storia molto bella per la quale ve lo dico subito abbiamo scelto con milena le canzoni proprio che le stanno più a cuore per la prima domanda la prima domanda è ma tu pensavi di fare tutto questo nella vita te l'avessero detto no 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 non ci avrei mai creduto se me l'avessero del giro si mai creduto perché no perché io sono sempre stata una bimba sono molto timida io diciamo come come carattere come modo mio di essere ed era una bambina molto chiusa molto veramente molto timida quando mi guardavano mi facevano un complimento io diventavo viola mi chiudevo proprio al riccio quindi era impossibile pensare che un giorno io sarei potuta stare sul palcoscenico sul palcoscenico teatro manzoni di roma fino alla 17 aprile regia di cinzia berni sexy e indecise di mauro graiani di questo spettacolo noi parleremo tra poco perché abbiamo tante cose da raccontarvi anche per quanto riguarda la quarta attrice tenete a mente la quarta attrice di questo gruppo dice non c'è detto neanche le altre non fa niente ve le dico dopo milena miconi io apro con una canzone che ti è cara si si chiama una canzone per te dice che fantasia no la fantasia è quella di vasco rossi ascoltate ma è proprio la canzone d'amore per eccellenza ma perché questa canzone che tanto ti è tanto cara beh io ero una fan a canita di vasco rossi quando ero piccolina e lo sono rimasta praticamente lo sono rimasta ovviamente ancora oggi e i primi concerti che sono andata a vedere con mio padre erano di vasco rossi ero piccolina quindi papà papà e mamma vogliamo anche dire beh papà mi accompagnava era soprattutto papà si si papà mi accompagnava ti sosteneva insomma sì sì papà era diciamo la parte divertente nel senso il momento in cui ci divertivamo era con papà ecco quando ci diceva andiamo a con papà eh sì è normale insomma uno dei due deve sempre tenere un po' le redini quindi con papà andavate ai concerti sì con papà lui mi portava a vedere i concerti di vasco rossi mi piaceva tantissimo e quindi lui cercava di accontentarmi più che potesse ed è bello quando i genitori ti concedono questa poi secondo me si divertiva anche tuo papà sì certo perché poi non accompagnava solo me io facevo il gruppo con le mie amiche insomma tutte le le mie amichette quindi riempivamo la macchina e andavamo tutti insieme a cantare all'andata e al ritorno e pensare che questa ragazza altro che non calcare un palcoscenico voleva salire per aria proprio voleva andare in giro per il mondo facendo la hostess che è un po' quel sogno no che ti permette tu dici io lavoro con e sugli aerei e potrò girare il mondo amavo proprio la libertà assoluta e quindi l'idea di fare la hostess e di viaggiare di girare il mondo poi mi piaceva stare con la gente quindi nonostante la mia timidezza in ogni caso poi comunque amavo stare con le persone chiacchierare con le persone trovarmi diciamo in mezzo a tanta gente mi piaceva non è che questa è sempre rimasta poi una tua caratteristica nel senso che una volta scesa dal palcoscenico o uscita da una fiction o uscita da un film e lo dimostri no tu hai comunque questa bella attitudine no ragazza rimasta con i piedi ben piantati per terra e però quella era l'idea cioè girare viaggiare fare e invece e invece invece arriviamo agli inizi di una di una carriera di una carriera brillantissima segnate anche questi da una canzone e da vasco rossi andiamo a ser elton john con i orsoni anche questa musica beh sì in quegli anni erano gli anni novanta ed era una delle uno dei insomma degli artisti che mi piaceva tanto ascoltare ma tu eri una bambina una ragazzina a questo punto una ragazza che stava nella sua camera a mettere musica a pensare a sognare o eri una più operativa più no ero molto chiusa però io ho avuto ero piena di complessi innanzitutto e quindi mi chiudevo spessissimo nella mia camera sì 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 è vero è vero è piena di complessi poi essendo stata diciamo io ho sviluppato molto presto e avevi avevi quindi ero già molto alle forme le mie forme quindi ero io mi sentivo a disagio io la sì ero io quella che aveva qualcosa che non andava e quindi questa questo rapporto con me stessa proprio era sbagliato cioè non mi piaceva assolutamente per cui rimanevo chiusa e poi avevo tanti capelli mi ricordo che non uscivo mai se non aveva se non trovavo un elastico per potermi legare i capelli certe volte mi arrabbiavo con mia mamma perché dicevo ma perché non mi sistemi questi capelli perché erano tanti e lunghi e non sapevo come gestire guardate è veramente un problema no è bellissimo però per una ragazza però tu sei veramente così però è vero che a volte tutte quelle che poi diventano virtù vengono viste quasi come no una cosa beh poi io stavo tanto sola nel senso che mia mamma lavorava tutto il giorno non avevo mai l'appoggio quando mi serviva magari di mia madre che mi tranquillizzasse o che mi dicesse ma non stai bene non ti preoccupare quindi io diciamo da sola facevo tutto no? facevo le risposte allora a un certo punto però le risposte le arrivano perché uh dobbiamo già fermarci? allora ve lo racconto dopo il perché vi racconto tutti i perché di Milena Miconi che ha iniziato come modella perché tanti capelli tanto bella e insomma qualcuno doveva pur accorgersene e da lì è diventata la ragazza che abbiamo di fronte a noi tra poco all'ora solare abbiamo tante cose da raccontarvi è Milena Miconi bella brava e aggiungo simpatica non sempre le tre cose fanno insomma si mettono tutte e tre insieme allora c'è una storia che una volta che questa ragazza molto bella che fa la modella con successo che fa fotoromanzi con altrettanto successo si proprio si affaccia alle porte del cinema e il cinema è quello di Leonardo Pieraccioni che salutiamo caramente il film era fuochi d'artificio come andò questo questo primo ingresso nel mondo del cinema intanto dovevi parlare con il regista certo si adesso non ricordo bene forse l'agenzia perché io all'epoca avevo già iniziato questo rapporto con un'agenzia mentre studiavo recitazione quindi mi era appoggiata a questa agenzia che mi mandava in giro a fare dei provini e probabilmente loro adesso non mi ricordo con precisione però andai a fare questo provino questo incontro dove cercavano un'attrice e incontrai proprio Leonardo in un ufficio entrai e lui mi disse guarda io sto cercando questa ragazza eccetera eccetera e mi diede queste pagine una sorta di battute del film una battuta da dire esatto mi fece fare una scenetta poi subito dopo un'altra e poi mi disse va bene sei tu ti prendo e io rimasi un attimo sbalordita e dissi ma in che senso sì ti ho deciso sei tu va bene così senti e quindi mi dici questo film quando tu hai portato questa notizia a casa sì che è successo? ma i miei mi hanno sempre appoggiata loro sono sempre stati molto felici di seguirmi però sono stati contenti insomma sì 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 loro felicissimi ero un po' un trofeo in casa ero un po' un trofeo meravigliosa allora i tre moschettieri con la regia di Pino Amendola e Nicola Pistoia stiamo parlando di teatro perché Milena ha sempre fatto questo ha sempre messo insieme è riuscita a mettere insieme il cinema la fiction voglio dire Don Matteo è tutto ma ci arriviamo con il teatro e a un certo punto c'è un altro modo di fare teatro e ancora un altro modo al Salone Margherita di Roma al Bagaglino e beh insomma io ho una cartolina per Milena Miconi sempre le poste italiane e ho una cartolina per Milena che arriva così e poi parliamo del Bagaglino eccoci nel verde di questa mia Sicilia dove io sto provando perché noi cerchiamo sempre di provare spettacoli né più né meno di come fa Milena che è una grandissima artista sei una delle pochissime che io vado a vedere a teatro sia quando fai le commedie musicali che le fiction è una donna che non voglio esagerare ma mette insieme grandezza e bellezza tutte in una donna insieme tutto quello Milena secondo me rappresenta tutto quello che una donna vorrebbe essere che un uomo vorrebbe dalla donna quindi io mi auguro di dividere il palcoscenico con te e tu sai quanto io sia difficile ed esigente e non ho tanti amici per questo è una delle pochissime spero credo anzi sono sicuro sia tu quindi in bocca al lupo per tutto complimenti a queste bellissime donne che siete quando mi invitate oh Malio Dovita è vero quando vuoi Malio quando vuoi ci siamo noi compagnia del Bagaglino scelta da Pierfrancesco Pingitore salone Margherita Malio Dovita con te dai tuoi compagni di lavoro sì un'esperienza bella importante tostissima tostissima sì sì beh io sono arrivata al Bagaglino inaspettatamente perché io stavo facendo appunto lo spettacolo a teatro e allora con me in i tre moschettieri c'era anche Lorenza Guerrieri e Laura Troschel che veniva sempre perché era molto amica di Lorenza e loro mi presentarono a Pingitore e quindi lui venne a vedere lo spettacolo mi fece fare un provino e mi prese ma insomma è veramente inaspettata questa cosa comunque scuola scuola molto rigida scuola tostissima beh Ninni Pingitore veramente un ti insegna veramente cosa significa la disciplina del teatro stare su un palcoscenico in un certo modo perché adesso succede di tutto nel senso che che c'è poca disciplina quello sicuramente adesso magari l'errore viene perdonato di più talvolta è un errore che può accadere può succedere ecco chi ha vissuto per vari motivi anche lavorativi Bagaglieno era dietro le quinte sapeva di vedere una squadra militare sì assolutamente sì un piccolo esercito piccolo mica tanto mica tanto è stata per me una scuola immensa grandissima oltre ad avere l'opportunità di vedere recitare grandi artisti io mi mettevo dietro le quinte nella sua terza parte perché dopo i due tempi dello spettacolo lui faceva la terza parte io mi nascondevo prima di andare via mi vedevo tutta la terza parte di Oreste che tutte le sere era diversa ma diceva le stesse cose ma era diversa e tutte le sere era un'altra roba e io mi rimanevo brava una cosa era così era così ed è un piacere ricordarla Carabinieri Don Matteo e Milena Milena con il suo stile con il suo modo di essere la fiction ancora Milena e poi arriviamo alle canzoni perché adesso ne abbiamo una che la fiction ha ancora un altro un altro passo è come guidare la macchina con diverse marce sì ecco ancora un'altra marcia la fiction che tu hai fatto benissimo grazie ma è ancora un altro un altro modo no? ma io sì è un altro modo di lavorare io ero molto decisa nel voler fare l'attrice e per me il bagaglino era stato veramente un grande trampolino di lancio ma non mi sentivo una subrette non mi sentivo anche se io ti ho presentato come showgirl perché tu sei showgirl lo sai fare lo sai fare molto bene però volevi io volevo recitare è un'altra cosa spesso dicevo a Ninni pingitore chiedevo Ninni perché noi lo chiamiamo tutti Ninni chiedevo spessissimo perché non mi metti qualcosina in più nei pezzi diciamo dove posso recitare lui ogni tanto lo faceva capiva questa mia esigenza e questa esigenza poi qui diventa come dire si apre questa è una bellissima foto c'è nel Paolo Villaggio bella sì insomma con Carabinieri è stata una bella opportunità poi insomma erano le prime fiction di grande successo perché questa poi fu veramente un grande successo Carabinieri con Don Matteo se lo ricorda Flavien Sinna come tu gli abbia fatto perdere la testa al capitata dei Carabinieri e quindi anche i Carabinieri in Don Matteo finché non arriviamo a questa canzone canta Lucio Battista mi ritorno in mente bella come sei forse ancora di più beh bella l'artistico boll poesia mi ritorno in mente e qui il musical era e mi ritorno in mente e mi ritorno in mente questo però facciamo un passo indietro un piccolo passo indietro perché e mi ritorno in mente con Gerry Cala come no con Gerry fu uno spettacolo una tournée lunghissima che io feci subito dopo il bagaglino diciamo tra la intermedia si tra il bagaglino e le fiction certo dove ti sei divertita con Gerry Cala scusami ti sto interrompendo no figurati è stato divertentissimo Gerry io lo amo follemente lui lo sa siamo rimasti legatissimi nonostante poi le distanze insomma la difficoltà di riuscire a vedersi eccetera però ci vogliamo veramente un gran bene è stata un'esperienza bellissima poi devi sapere ti do questa notizia che vabbè ormai lo sanno tutti ma io firmai il contratto per partire per questa lunga tournée e avevo appena conosciuto Mauro mio compagno che poi adesso è diventato mio marito dopo 18 anni finalmente ci siamo sposati siete diventati maggioremmi e ci siete sposati scusami e avevo appena conosciuto Mauro in quel periodo e avevo scoperto di essere rimasta incinta ma che meraviglia velocissimamente ma che meraviglia e amore esatto grande amore andai dal produttore dicendo guarda io sono incinta e lui chiaramente divenne verde rosso giallo di tutti i colori di tutti i colori io dissi guarda io sto benissimo tranquillo sto benissimo io me la sento di andare in tournée quindi facemmo tutti insieme appassionatamente questa tournée di cinque mesi con la pancia che cresceva piano piano cresceva però un'esperienza bellissima io ve l'avevo detto di mettere un asterisco sulla quarta attrice però arriviamo arriviamo tra poco a tutto questo quindi insomma una una anche futura mamma si capace di stare sul palco si assolutamente oltre allo star bene voglio dire e anche questa una prova di impegno no di voglia voglia di fare io sono una che non molla sai sono una molto tosta anche se con tutte le difficoltà che ho affrontato insomma i periodi brutti come tutti quanti abbiamo avuto però io non mollo mai sono una che comunque a parte sono lavoratrice proprio sono una che lo so che lavora sono una che si rimbocca le maniche va e fa allora si è vero questo è tutto vero non lo dici perché lo devi dire tu no perché poi sapete una persona è quello che tu raccogli di lei quando ne parli in giro e su Milena si raccolgono sempre fiori è bello meno male è bello e non di tutti finchè canta canta questa canzone Tiziano Ferro sentiamo un po' un rosso relativo senza macchia d'amore ma adesso allora che succede sotto questa canzone eh beh questa canzone l'ascoltavo tantissimo nel periodo era appena nata Sofia e mi ricordo era eravamo al mare che era il primo anno che io prendevo una casa al mare perché poi insomma quando sei giovane ragazzina non è che pensi a prendere le case no certo cioè no rumori fuori scena scusate entusiasmo giusto appunto parlando di teatro esatto giusto appunto parlando di teatro e quindi anche se vuoi Milena forse riuscivi anche a fermarti in quel periodo no perché qua ti vediamo oh dio questo batuffolo da mangiare sì amore quindi c'era la casa al mare c'era Sofia sì era appena nata Sofia avevamo preso questa casa al mare e mi ricordo insomma che le mie passeggiate al mare al tramonto con questa canzone anche con questa canzone sì mi piaceva tanto in quel periodo Tiziano Ferro mi piace sempre ancora oggi lo ascolto perché mi piace tantissimo siamo in due siamo in tante siamo in tantissime allora è arrivata è arrivato il momento di dirvi che Sofia fa l'attrice voi direte e ci credo la mamma sale sul palcoscenico inizia la sua tournée per cinque mesi canta e balla e recita quindi la figlia che ha vent'anni ed è bella come la luce non può vabbè qui siamo proprio sull'esagerazione devo dire due sorelle due sorelle Sofia e poi Agnese Agnese ha 13 anni è arrivata anche la piccolina sì sì anche Agnese è arrivata inaspettatamente o meglio lei io avevo avuto ero rimasta incinta di nuovo dopo sì sei anni sei anni e mezzo circa sei anni però poi io l'ho persi e quello e quella diciamo quella gravidanza andò purtroppo male rimasi poi incinta subito dopo ed erano una gravidanza gemellare e invece poi è rimasta solo Agnese è rimasta Agnese e quindi sono felicissima perché comunque due figli insomma era quello che volevo ecco solo che poi quando ti fai prendere dal lavoro dalle cose dalla vita frenetica no? pensi oddio adesso come si fa ricominciare da capo è una io credo poi dopo sette anni ritornare a essere a essere mamma a avere a che fare con un bambino piccolo non è semplice ho avuto veramente tante difficoltà dopo sette anni tu sei diventata nuovamente mamma della piccola Agnese e hai portato avanti la tua famiglia come fai da sempre riuscendo a essere una mamma così brillante guardate le proprio fatte bellissime fatte per bene queste ragazze proprio riescono devo dire belle fatte con lo stampino della bellezza e lei continua a essere mamma moglie e artista come noi la conosciamo c'è un altro siamo di corsa vero? sì allora abbiamo un altro messaggio wow che arriva da un regista che ti ha diretto in una famiglia in giallo guardate un po' ma veramente? sì di Milena Amiconi ho un ricordo molto affettuoso anche perché ci siamo conosciuti qualche anno fa eravamo entrambi un po' più giovani e l'ho incontrato in occasione del casting della mia serie per aiuno una famiglia in giallo e le affidai con molta convinzione il ruolo di un magistrato di una giovane magistrata come si direbbe oggi affidandole un compito un po' particolare perché oltre a svolgere il suo ruolo professionale avrebbe dovuto sciogliere il cuore un po' congelato del commissario Bentivoglio interpretato da Giulio Scarpati penso che sia stata un'esperienza interessante e divertente per entrambi mi dispiace anche che non ci siano state nuove occasioni di collaborazioni che probabilmente non mancheranno in futuro almeno me lo auguro e comunque seguo con affetto la sua carriera molto brillante e che ho molto apprezzato quindi per adesso tantissimi auguri un saluto a Paola e un saluto a Milena ciao Alberto, Alberto Simone ti aspettiamo qui ovviamente ma che bello grazie Alberto abbiamo messo insieme tutti questi ricordi del tuo lavoro della tua carriera molto piacere perché ho un bellissimo ricordo di quel periodo e di come abbiamo lavorato insieme insomma siamo stati molto bene è stato un bel lavoro sì sì molto bello un lavoro fatto bene al Teatro Manzoni di Roma Teatro Manzoni di Roma in scena fino al 17 aprile aprile con Patrizia Pellegrino Matilde Brandi e una tale Sofia Graiani è Sofia quella che ha fatto i primi cinque mesi con Nella pancia della mamma sul palco siete in scena con Sexy e Indecisi che è uno spettacolo brillante divertente insomma sì questo è uno spettacolo ha scritto Mauro tra l'altro mio marito dunque nasce un po' pensando al femminile cioè io con Patrizia declinato al femminile sì io con Patrizia ci siamo ritrovati a dire facciamo qualcosa insieme però io vorremmo fare vorrei fare mi dice Patrizia qualcosa proprio al femminile da tra donne dico sì in effetti mi piacerebbe molto poi io mi diverto stare le donne mi piacciono da morire io mi diverto con le donne perché fai il tifo per le donne io le amo le donne quindi per me è bello condividere con altre donne e allora parlai con Mauro dissi senti che dici pensiamo a qualcosa scrivi e lui scrisse questa commedia molto molto divertente perché poi parliamo di noi in realtà cioè la donna dei 50 anni che oggi comunque è una donna ancora bella sexy però indecisa perché poi tutto sommato facciamo molta fatica a ritrovarci nei tempi di oggi perché si ritorna un po' Milena alla ragazzina che stava chiusa in stanza troppi capelli esatto ci sono altri tipi di problematiche però in fondo il cuore è sempre quello di una ragazza e certo poi sai in questi 30 anni sono cambiate tante cose veramente tante cose e quindi è quella la problematica ma 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 sulle cose che cambiano ci sarà una delle protagoniste non vi dico quale Sofia che ci aiuterà che aiuterà insomma ed è un lavoro tutto al femminile che sono invitati a vedere anche gli uomini ci mancherebbe altro ma che diverte e che è bello quindi grazie grazie Milena chiudiamo proprio al volo con questo infinito chiudete con l'infinito si canta Raph perché poi lei canta mentre sente queste canzoni quanto è carina allora Mauro l'abbiamo appena sentita insomma Mauro scrive per te Mauro che è l'amore della tua vita beh sì ormai sono vent'anni che siamo insieme abbiamo superato veramente ed è una cosa molto bella beh abbiamo cominciato al contrario noi abbiamo prima fatto un figlio poi siamo andati a vivere insieme e poi dopo 18 anni ci siamo sposati vi amate e questo questa è la cosa bella quindi avete ma lui è straordinario lui è veramente io non potrei stare senza di lui ma perché per me lui è proprio il punto di riferimento è la persona che chiamo quando ho bisogno è la persona che mi mette proprio con i piedi a terra che mi dà la stabilità è meraviglioso perché credo che Mauro anche tu non possa stare senza di lei non ci sono dubbi allora scusa se ci ho messo tanto a sposarti ti prometto che ti sposerò per tutti i giorni che verranno questo ha detto Mauro alla sua Milena Milena grazie di essere stata con noi grazie davvero allora guardate una dedica d'amore l'abbiamo l'abbiamo messa proprio in chiusura perché di amore si parla in questo servizio che non è soltanto un servizio di quelli che noi mandiamo in onda è poesia pura la nostra Antonellina Ferrara guardate ogni istante che vi proponiamo ogni singolo istante grazie a tra poco grazie a tutti